Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua e stiamo per evocare il Drago Sharon soltanto un secondo perché vorrei craftare un baule per posare alcune cose mettiamolo da questa parte mettiamo questo, questo ok poi possiamo per sicurezza altre sfere mettiamo questo ok usiamo un po' tutto diciamo ci lasciamo soltanto le cose che ci servono proprio ok e andiamo ad evocare il Drago Sharon ragazzi andiamo pronti evochiamo il Drago il tasto destro è un po' piccolino lo immaginavo un po' più grande abbiamo evocato il Drago Sharon con il tasto destro vediamo un po' possiamo chiedergli senzu senzu, warrenai crystal, alien chip o catching shard ora io non so cosa è la catching shard e senzu diamanti si e il chip lo so cos'è non so proviamo a chiedere ah senzu forse è il fagiolo magico di Balzara in italiano catching shard non lo so cos'è proviamo a chiedergli catching shard ah ok 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 è questa qua questa qua serve per alcuni crafting tipo la spada e infatti non sapevo come dropparla diciamo come prenderla adesso sappiamo come insieme al chip dobbiamo per forza chiederla al Drago Sharon prendiamo un attimo le bistecche posiamo questo prendiamo il carbone ok ora abbiamo la la catching shard spero si legga così non lo so mettiamo altre bistecche qui ok abbiamo evocato Shenron io lo evocherei di nuovo tanto di sfere ne abbiamo altre andiamole ovviamente spariscono ogni volta che lo evochiamo poi su questa mod c'è anche Namek e ci sono altre sfere di Namek più grandi sono si trovano solo lì ok evochiamo di nuovo tu hai evochato il dragone e così ti sarai accettato quando ti sarai cosa vuoi? il tuo desiderio? il tuo desiderio? quasi quasi io lascerei lì per decorazione chiediamogli qualcos'altro io direi di chiedergli diamanti 5 diamanti 5 diamanti non sono male ok è scomparso bene abbiamo 5 diamanti ragazzi almeno non dobbiamo faticare per trovarli e mangiamo qualcosa se no moriamo ok ora cosa possiamo fare? io vorrei innanzitutto craftare una spada questa volta abbiamo fatto una brutta fine e poi andrei a cercare un po' di ferro e poi se troviamo altre sfere comunque troviamo magari un sidebine lo sfidiamo lo cerchiamo di ucciderlo intanto il rilevatore è quasi tutto distrutto ok andiamo in giro guardate quanti zombie io vorrei continuare qui e scavare da soli per trovare un po' di ferro ok magari scaviamo proprio qua anche se non ho tutta questa voglia di scavare da solo una caverna è meglio trovarne un'altra decisamente è meglio trovarne un'altra ok vediamo un po' se possiamo trovarla da qualche parte non abbiamo trovato altri sidebine strano ci farebbe proprio comodo comunque è un po' nel deserto cosa c'è speriamo un po' di legge ok quindi sembra che non c'è nulla poi modificheremo un po' la casa perchè non è che mi piaccia molto ok vediamo un po' vediamo un po' sempre notte o è notte o piove ecco un'altra sera se vai ma non si trovano più peccato dobbiamo ucciderne altri altri perchè dobbiamo trovare quegli oggetti quei sidebine left over diciamo dei semi c'è un creeper due attenzione la sfera ah la sfera non è distrutta meglio ok ce la dà lo stesso prendiamo questo carbone la vedo altra luce quindi potersi che c'è un'altra sfera vediamo un po' no forse mi sbagliavo sarebbe bello trovare la lana ci ha distrutto il il nostro rivelatore rilevatore io non posso neanche più volare quello è un elmo di dor andiamo a rubagliarlo dato che ci ha distrutto dato che ci hanno distrutto il nostro rivelatore io devo ucciderlo questo è uno del villaggio forse c'è un villaggio vicino ecco una sfera non ci ha troppato l'elmo pensavo ce lo troppasse qui sono le pietre prendiamone un po' ragazzi io come al solito vi ringrazio per le iscrizioni vi ringrazio per il mi piace e vi invito a farlo e grazie a chi l'ha fatto ne sono molto felice spero vi piaccia la pixelmon poi vedremo quando ritornerà quando quando faranno la 1.5 io continuerò a farla o comunque inizierò una nuova serie se non vi piacciono questi pezzi in cui scavo ditemelo che magari taglierò le prossime volte ok c'è del ferro la prima volta che lo troviamo in questa serie meglio fortunatamente ce n'è anche molto ok vediamo un po' cosa c'è qua giù questa è una bella caderna credo ecco altro ferro buonissimo ok ci sono altre pietre così possiamo fare anche i stivali ok è un po' lento distruggere questi blocchi poi quando avremo più sferro più ferro lo useremo ce ne sono tanti mi scende ancora meglio che ce ne sono tanti almeno non avremo problemi per rifare il rilevatore è bella la forma che sembra come quella di diamanti almeno ci dà l'impressione di trovarne comunque grazie al dragon sharon ora ne abbiamo quindi non è un grosso problema certo chiamare il dragon sharon per dei diamanti non è che sia una gran cosa ci sono degli zombie c'è del ferro o un creeper andiamo a prendere quel ferro prima che ce lo perdiamo oh eccolo oh eccolo oh ci ne sono molti forse c'è un dungeon forse c'è un dungeon è anche molto forte ma sono due attenzione ragazzi questi ci uccidono mangiamo qualcosa prima che ci è uscita per fortuna non ci ha ucciso siamo stati fortunati siamo stati fortunati è pieno di mostri ragazzi ho stoppato un attimo mi è piombato un creeper addosso mi ha mi ha esploso all'improvviso è pieno di mostri è incredibile è strano perché forse c'è un dungeon sicuramente almeno di zombie ecco un altro zombie aspetta ora abbiamo neanche più la spada ok l'abbiamo ucciso tutti questi zombie devono venire da qualche parte no? però non sembra ci sia un dungeon non è un altro creeper incredibile ma non ci sia un tempo wow altro forse una malarmatura intanto qui c'era c'era del ferro ma è scomparso con tutte queste esplosioni ok prendiamo questo ferro al volo prima che ci uccidano prima che ci uccidano prima che ci uccidano prima che ci uccidano oh no ora è un problema di ucciderlo questo perché senza spada ci vuole molto sono tantissimi incredibile ci mancava anche il ragno sbrighiamoci a andarci perché qui la vedo oscura ok abbiamo preso un po' di ferro abbiamo altre guarenai io direi di andarceli infatti pieno di mostri andiamocene finchè viviamo ecco 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 un altro incredibile sono una marea e fermo ok siamo usciti a scappare quanti abbiamo rimediato abbastanza ferro e abbastanza warrenai ok meglio eccolo la che ci aspetta quello quello scheletraccio e ora per tornare a casa dobbiamo andare da questa parte mi sembra ecco un say bye ancora ancora devo capire perché non è comparso l'altra volta comunque lì è una bella caverna dobbiamo tornarci dobbiamo rifare un altro rilevatore almeno possiamo volare possiamo siamo molto avvantaggiati ecco ecco una sfera l'ho vista un'altra un'altra l'altra quante ne abbiamo? sei ok dovrebbe essere da questa parte casa infatti tanto sono cresciuti gli alberi ecco la nostra dorata casetta ok ok qui ne abbiamo altre tre facciamo un'altra spada che ci serve come il pane allora cosa possiamo fare? andiamo a cuocere il ferro prendiamo le bistecche ci serve quanto carbone c'era? uno ok abbiamo il primo ferro ora 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 io andrei a evocare di nuovo il drago Sharon e poi chiudere la puntata e poi chiudere la puntata così la prossima volta faremo qualcosa di nuovo ok vediamo ok ok abbiamo ormai un'un un ma dai uno si edai gli diamanti tanto per ok facciamo intanto le scarpe almeno facciamo tutto il completo perfetto no e indossiamole ok perfetto possiamo fare un altro un altro rilevatore facciamo così qui rileviamo un attimo il ferro mettiamoci la sabbia ok perfetto mettiamo il glass qui questo qui e questo qui ok abbiamo fatto rosso red scouter e indossiamolo perfetto ne andiamo ancora le frecce indosso possiamo anche fare volendo anche delle finestre a questa casa perché così è molto lugubre magari la prossima volta ok ok ragazzi io sto per salutarvi dopo queste varie vocazioni e queste lotte infinite vi saluto ciao 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 ciao